Chef Marco Stabile ha parlato di come la sua cucina si è collegata all'arte, quindi le chiederei quale periodo artistico, addirittura opera d'arte, ha ispirato questo piatto? Beh, innanzitutto come periodo si colloca nel rinascimento, Firenze è la culla del rinascimento, cosa nota? Quindi è un piatto che come all'epoca non ha collocazione, ha note dolci, note salate, note acide, quindi può essere un dessert per chi non piace il dessert, può essere un antipaspera per incominciare. La cosa importante è il tartufo bianco sopra, quindi da questa aromaticità, questa unicità. Opera d'arte? Beh, potrei dire la venere dei botticelli, perché è un piatto che ti avvolge. Ti conquista e non ti lascia più, ma soprattutto ti rimane in testa, perché ha dei sapori così intensi e particolari che non li puoi cancellare. È un rimando fantastico la venere dei botticelli per un piatto dedicato alla nostra città. La ringraziamo e le auguriamo un buon proseguimento e un buon futuro a livello lavorativo. Grazie e tartufo fresco sempre e solo alla fine.